Carlo Conti Carlo Conti in versione inedita. Quella romantica? Il conduttore e padrone di casa della corrida, di solito usa poco i social network e soprattutto per lavoro. . E infatti quando l'altro giorno ha postato su Instagram quello scatto tenerissimo col figlio di spalle, al mare, ha ricevuto una pioggia di cuoricini e di commenti. . 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 Siete bellissimi, vi auguro di stare insieme per altri mille anni, augurissimi a un conduttore televisivo fantastico e a una splendida donna. In poche ore il posto di Carlo Conti ha superato, anche i 17.000 liche. E la signora Conti? Sarà stata sicuramente contenta di tutto questo affetto, ma non è stata da meno del marito. Continua dopo la foto, anche lei ha voluto celebrare sui social questo giorno importante e così, sempre su Instagram, ha condiviso un altro momento immortanato nel giorno delle nozze, sempre in auto, e ha scritto. Ci siamo conosciuti nel 2001, da allora fai parte della mia vita. Il 16 giugno 2012 ci siamo sposati, ed ogni giorno che passa ti amo più del primo. Oltre a quelli di migliaia e migliaia di fan, sono arrivati liche e auguri anche dai VIP. Come l'amica e collega Antonellina Clerici. Che ha scritto, con un cuore e tanti smile. Già sei anni. Auguri. Ciao.